Dalla padella alla brace, dall'evasione fiscale alla presentazione di documenti falsi per ottenere il dissequestro dei beni confiscati. È stata questa la parabola di illeciti in cui è incappato un imprenditore di 48 anni di Fermignano denunciato dalla Guardia di Finanza di Urbino. Un fermignanese operante nel settore dell'abbigliamento sul quale la procura Urbinate, assieme alle fiamme gialle feltresche, aveva approfondito una verifica fiscale che ha fatto emergere una consistente evasione tributaria che ha superato le soglie di punibilità penale. Il GIP del Tribunale di Urbino ha così disposto il sequestro preventivo strumentale di beni per 1.860.000 euro, comprese auto e moto di grossa cilindrata. Un ammontare di beni sequestrati che corrispondeva al profitto dei reati tributari contestati e alle imposte evase di conseguenza. L'imprenditore però ha subito cercato di ottenere il dissequestro delle sue proprietà presentando un'istanza corredata da una missiva dell'Agenzia delle Entrate in base alla quale l'amministrazione finanziaria avrebbe accolto una sua richiesta di rateizzazione e la quietanza di pagamento della prima rata del piano concordata con l'ufficio. I riscontri effettuati dalla procura hanno però fatto emergere dubbi sul fatto che i documenti non fossero veritieri. Le verifiche incrociate con l'Agenzia delle Entrate hanno infatti accertato che l'imprenditore aveva effettivamente presentato la richiesta ma che questa però non fosse stata accolta oltre a delle incongruenze sulle annualità delle rateizzazioni presentate. Dunque l'imprenditore si è visto negare il dissequestro ed è stato pure denunciato dalla Guardia di Finanza di Urbino alla procura che ha dunque formulato la richiesta di rinvio a giudizio per l'ipotesi di reato contestata.